Sto raccogliendo i baccelli per poi farci due ricette semplicissime ma gustose. Certamente non è nube così, ma è eccezionale. Questa è la ricetta che mi ha dato mia suocera centenaria, il ricordo di lei. Ecco i baccelli che abbiamo raccolto allora, li abbiamo separati. Quelli un pochino più piccoli che adopereremo per fare pecorino e baccelli, quelli un pochino più grossi e graniti ci faremo lo stufato. Qui in Toscana si chiamano baccelli ma il baccello sarebbe l'involucro delle fave, dei piselli, di tanti legumi, dei fagioli eccetera. Però dato che in Toscana fava è una parola un po' strana diciamo, li chiamiamo baccelli. Ora inizio a sbucciarli. Uno a uno. Questi sono gli ingredienti per il pecorino e baccelli, che è un antipasto. Baccelli sgusciati, pecorino, mi raccomando, sia quasi semistagionato, ma pecorino buono, profumato come questo. Sale, pepe e olio. Tagliare il pecorino a dadolini. Mischiare con i baccelli, cioè le fave sbucciate. Condire a piacere con sale, olio e pepe. Eccoci nell'orto, sto prendendo il rosmarino per fare lo stufato di fave. Eccolo qua. Basta un ramoncello piccolo piccolo. Ecco gli ingredienti per la ricetta stufato di fave. Queste sono le fave fresche, appena raccolte. Un pochino di rosmarino. Sale, pepe, olio, tre spicchi di aglio, 50 grammi di pomodoro e un bicchiere di acqua per cuocerli. Mettere in un tegame l'aglio intero in abbondante olio e farlo rosolare piano piano insieme al rosmarino. Aggiungere il pomodoro, sale, pepe e il bicchiere di acqua. E infine le fave, coprire il tegame e portare a cottura per circa un'ora. Alla fine si deve ritirare il liquido e deve essere abbastanza asciutto. Che sapore! Si sentono i baccelli, si sente un pochino di rosmarino, quel pizzicorino di aglio sono veramente buoni. Certamente non è il nucleo così, ma eccezionale. Oggi piatti veramente speciali, un pranzo quasi da navardi. Buonissimi, i baccelli e il pecorino, freschi si sente. Proprio la freschezza sia del pecorino che dei baccelli. Ottimo! E dopo questo mi mangio lo stufato di pade. Mi raccomando, assaggiate questi piatti. Ciao, al prossimo!